Se potessi avere mille lire al mese No, mille è troppo vago Centomila Centomila De me fai dei cosi De me comprai dei cosi a me Se potessi avere Centomila al mese Oh, quanto cosa mi comprai Eeeh, se arrependi C'è il paziente C'è, Rosa? Ma avanti Permesso? Sono avuta così? Posso? Prego, prego Eeeh, ma non è che a risbagliare un stampo Vostè? No, no Eeeh, mi presento Buongiorno Io sono una stilista volante Piacere, stiro moda Porto i miei abiti nell'effargio Voglio presentare i miei nuovi modelli A tutte le donne e voglio che siano belle e desiderabili davanti agli occhi dei loro mariti ma Mary, signora signora? signorina, ma lei mi chiami Stiro va benissimo ascolta, Stiro Deo, non comprendo, manca te buonare stilista ascolta, facciamo prima metterci al lavoro piuttosto che stare lì a spiegare i dettagli e dunque dite cosa bella che vuoi bisogna la vai bisogna stupire essere sexy cosa bella oh, ce ne rappresci vaga, stravarò guarda che mi piace un gusto l'uomo si conquista giorno per giorno ha capito? dunque, come si chiama lei? eh, Savarina ingraccia bene, Savarina ha capito? io oggi la devo trasformare guarda ma Deo, non ha proprio prendi un uomo Deo, non usci ma anche te buonare stilista ma ascolti nuova chiedo ma è gonna pure porta fostei e oggi tutto vuole la gonna? sì, sì siccome ti capisco andai a un matrimonio dovremmo cambiare la senora ma noi ci mettiamo subito al lavoro che ti puoi fare? eh, devo guardare per vedere che modelli vuoi però si ricordi eh, signor ma, vostè poi di noi eh, con i tempi che corrono signor Savarina no, no, no come si fa? no, ascolti faccia una cosa vinicchi tutto e bando di sindica che io non ti dico dentro di noi despendo calma il mio se diventa la chichimano andai a giocare scrucuello caderno su sabinja e fulti ma benedì dottos su salvicuera saggi e se diventa la chichimano andai a giocare spilone eh, ma no io adesso ci sono non ci deve preoccupare dei pilone io adesso ci sono e non vi renderò io faccio di lei una donna bellissima affascinante ma ci ha reso e si fidi di me e quando suo marito la vedrà gli uccelli della vigna sarà l'ultima cosa che penserà capito signora Savarina oia ma e ti ho re ti ho re che tricare io ma c'è già in mezzutti se arriva mai la mia nogata su musungio pronto si un fra che una bellezza ti ho reso ma che musungio d'Egitto quando la vedrà la coprirà di baci e di abbracci come quando eravate fidanzato dai dai però dai te non ti tengo di comprare se ho spiantato la punta venite tutto e banderisente ma noi oggi signora Savarina noi oggi facciamo il pacchetto compri oggi e paghi fra due anni compri oggi e paghi domani signora Savarina ma lei non deve pensare ai soldi deve pensare a stare bene a vivere bene il suo feeling capito se ho un degusto strecchio godace non ha più compri nuda però si è sta pagare fra due anni mi va ricca tocchi tocchi faccia faccia allora ci mettiamo subito la lavora fino a Savarina tende oia oia di Dio è l'orengo frioso grazie oia oia se ho toccato un ciutare brava oi ti arrori sa far te sta umidio eh certamente oia la vai brava oia oia allora di Dio è l'orengo frioso facciamo non da anni 50 60 o all'ultimo grido eh tocchi e facciala su ultimo cerchio brava ottima scelta guardiamo guardi guardi questa camicia modello ultimo modello guardi colori tessuti già pensi cosa con il suo matrimonio bellissima oh che bella adesso la gonna eh certamente ascolta adesso mettiamo la gonna guardi che modello guardi i colori i contrasti i contrasti dei colori il tessuto fresca signor Savarina dunque mettiamo la gonna da sopra o da sotto eh tocchi vediamo da sopra vabbè facciamola aspetta e con calma aspetta ma gemmi ora è un ubbidea aspetta 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 ma poco poco aspetta guardi ah allora ah benissimo dunque signora Savarina vestiti allora lo spacco lo spacco lo vuole davanti o dietro eh tocchi che facciamo i donati bravissima ottima scelta ma lo sa che le modelle nell'ultima sfilata tutte spaccate erano certo se spaccheri mi la palla pure brava così si deve fare lo spacco davanti fenomenale guardi guardi benissimo adesso adesso un bel cullar cosa dice contrasti di colori guardi che tonalità che freschezza che leggerezza bello adesso ho un capellino di lana oi no se da lana no se mi mungere se è un allergica allora cosa dice mettiamo questo colorato oh no se non mi frage cus forse è questo no questo va benissimo è bello mi è cus ma signora sono caro non mi dedo mica come vuole era per non sciupare la pettinatura si è andata dalla parrucchiera oh questo è troppo bello guarda che incanto che fascino bellissima bellissima affascinante le maroni non sprivo bellissima adesso gli occhiali se mettiamo anche qualche colana non guarda non è che si usa tamera ma queste guardi vengono da un continente molto guardi che bello guarda adesso gli occhiali che incanto che fascino ma quasi quasi non la riconosco nemmeno io quando arriverà suo marito saranno scintille si farà suo marito beh adesso un po' di trucco mi trucca puro? eh beh non mi conosce la parola facciamo un po' di trucco oh scusi eh prego prego bravo bello un po' di rossetta cosa dice? eh mi sento pure mi piace eh ecco mi stieranno strada ma fai mia città che fa tutto stotto eh scusi eh qua non mi pico vero vede 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 anche un po' di mattina eh che cavolo come ti sa di poste cosa dice? mi bragi mera mi bragi mera mi bragi mera vuoi far sfumato? sì certo far sfumato faccio te rasier femmina non ne si connota primus guarda bellissimo bello perché troppo uno anche qua bello certo mi ha riempite no signora samarina ma lo so che lei potrebbe anche fare la modella la sugar la top moda signora ma che da la creio veramente guardi lei davvero potrebbe sfilare in passerella con le migliori modelle naturalmente togliendo qualche centimetro che abbonda aggiustando la compostezza lei è un penne mio però guardi che davvero ogni uomo vorrebbe avere in casa una donna come lei signora strava adesso ascolti io le faccio il servizio fotografico e il calendario ce l'ha sì ma lo spreco non mi due volte lanciandosi sta guardando l'orario puia ce ne arriva mai il mio è una gatta su musungio pronto ti arrore ma che musungio d'egitto signora sabato quando suo marito la vedrà coprirà i baci e i abbracci come quando eravate fidanzati signora sabato comunque guardi io adesso vado prendo lo specchio e la macchina fotografica lei mi raccomando non parli non si muova per nessuna ragione non parli con nessuno non fiati e non fiati soprattutto non respiri stomaco indentro ora lei pensi pensi di volare come volano i crucoi di suo marito nella nonna brava torno subito vado a prendere lo specchio e la macchina fotografica e le faccio il servizio fotografico rubano non è eppure il suor ma fatto un mostaglio nuovo figlio è bello ma non è lì non è che mi mi rogo sta fine mi davino ma mi da capito a bricecchetta e mi ce la volta vincere non erano scuriti lo sapevo è venuto il marito e il mio ultimo modello ha fatto subito effetto per i conti tornerò più tardi adesso sono troppo impegnata arrivederci se volete se volete questo modello ce ne sono in la luna ho tempo libero se volete farvi vedere volevo che tu vedi grazie mille grazie mamma grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti